Io mi chiede questa cosa qua. Grazie. Allora, Chromebook è... La nostra domanda è se ci sarà. Allora, stiamo ancora... Esiste all'interno della nostra roadmap, quindi altri campi l'hanno annunciato, e è un mercato nuovo, è un mercato nuovo, stiamo valutando anche in Italia la produzione di prodotti di quel tipo lì. Non so dire le tempistiche, però stiamo lavorando sul business case per capire appunto le potenzialità del mercato, perché abbiamo visto comunque che c'è una domanda, in altre campi, in altre sostive, in altre nazioni, hanno centrato una macchina di questo tipo, per cui è una cosa su cui stiamo lavorando. Quindi, tecnologicamente, la macchina esiste, è stata introdotta, provano ad essere molto pratica in Inghilterra, esiste anche un modello di business che è sostenibile, si tratta di valutare quando, se e quando lavoriamo in Italia. La macchina, sostanzialmente, è andata sui siti web inglesi e la potete comprare con quella che è una tastiera inglesa. Quindi, non esistono varietà tecnologiche, lo chiamo in produzione, si tratta di capire quando introdurla, se e quando introdurla in Italia, perché, come sapete, c'è varia. Grazie.